Sembra proprio che la Regione Lazio vada verso l'introduzione dell'obbligo di vaccinazioni per l'iscrizione all'asilo nido. Sul sito Lazio 5 Stelle lei dice no a metodi coercitivi, sì a informazione e prevenzione. Qual è la sua posizione in merito? La posizione è quella del Movimento 5 Stelle regionale, ma anche nazionale ed europea. Noi siamo assolutamente a favore dei vaccini, se fatti però con criterio. Secondo una logica non più di vacciniamo tutti comunque, anche per motivi commerciali, ma soprattutto nell'ottica di capire esattamente cosa serve al singolo bambino per prevenire una malattia infettiva. Noi mettiamo in discussione un modello che forse è superato dagli stessi epidemiologi, lo dicono. Ha senso fare vaccinazioni non coercitive, quindi l'obbligo esiste a livello nazionale, però non possiamo inoculare per esempio l'esavalente quando i genitori non sono informati, non sono consapevoli e lo fanno solo perché glielo dice il medico o il pediatra. Noi vogliamo vaccinare solo per i vaccini obbligatori, dando piena informazione alle persone che vogliono poi proseguire questo percorso vaccinale anche con vaccinazioni facoltative, ma sulla base della storia del singolo bambino e sulla scelta ponderata e pesata del medico e del pediatra. Non più lasciare così al caso il tema delle vaccinazioni.